30 scatti, installazioni e video in mostra per raccontare il rapporto fra uomo, natura e cosmo orientarsi con le stelle alla Casa Museo Boschi di Milano. Buonasera dal telegiornale RAI della Lombardia. Le mostre alla Casa Museo Boschi di Stefano di Milano orientarsi con le stelle un affascinante viaggio fotografico nella natura e nel cosmo. Cristina Sanapassino. Che fai tu, luna in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Come pastori erranti abbiamo scrutato il cielo nei lunghi giorni del lockdown per cercare un po' di speranza. Lo hanno fatto anche nove fotografi, sei italiani e tre stranieri, dalla Norvegia alla Grecia per costruire attraverso i loro scatti un unico racconto sul difficile rapporto tra uomo, natura e cosmo. L'obiettivo non è mostrare ma evocare e soprattutto costruire una relazione tra noi, le nostre emozioni, la natura e il cosmo. Una sonata al chiaro di luna, la mostra fotografica dal titolo Orientarsi con le stelle fino al 31 ottobre alla Casa Museo Boschi di Stefano di Milano. Trenta opere, tra fotografie, video, installazioni, autori diversi, varie generazioni, visioni differenti che svelano il modo in cui l'uomo riflette sulle stelle, miracolo di bellezza e mistero. Per mandare un messaggio positivo verso il futuro, col desiderio di ritrovare un nuovo rapporto, un rapporto più vero, più sentito e più rispettoso nei confronti della natura. Non opere che mostrano ma che generano emozioni, parlano sottovoce e come in una poesia riportano un po' di cielo in terra.